1.560 dipendenti di Banca Etruria, 5.800 tra tutte e quattro le Good Bank, attendono di conoscere il proprio destino per la prossima vendita. Ed in questi giorni hanno ascoltato e probabilmente non gradito le parole del Vice Ministro Morando, intervenuto ad un convegno della CGL, dove ha detto che non si possono mettere per legge in capo alle quattro banche vincoli sul versante dei vecchi azionisti o anche su quello della clausola sociale, altrimenti si ottiene un'oggettiva impossibilità di venderle. Morando ha poi aggiunto che il Governo intende comunque fare tutto quanto necessario perché si completi il processo di vendita e che potrà operare una moral suegion perché l'acquirente possa avere un'attenzione in particolare ai vecchi azionisti. C'è infatti, secondo Morando, un evidente vincolo dettato dal buonsenso perché chi sceglie di acquistare le banche per farle ripartire ha bisogno di recuperare un rapporto positivo con il territorio. La nostra posizione è chiara, è il momento dei fatti, ha commentato Maria Aguecci della Fisac CGL di Arezzo, ricalcando la posizione del segretario nazionale del sindacato dei bancari Agostino Megale. Il tempo dell'enunciazione è finito, ora bisogna difendere posti di lavoro e territorialità, ha dichiarato Megale della Fisac CGL. Il capitale umano è la voce fondamentale di questa operazione, ha aggiunto Maria Aguecci. I dipendenti hanno già sostenuto e stanno ancora sostenendo i sacrifici salariali ed occupazionali. Dal 2012 siamo calati di 500 unità, poi chi verrà per acquistare Banca Etruria? Farebbe un pessimo affare se smantellerà. Non lontana la posizione del presidente Nicastro, che ha lanciato il patto per l'occupazione con chi compra la Good Bank, spiegando che, oltre alla leva del prezzo, vorrà introdurre anche un concetto di patto col territorio, una richiesta di impegni, di attenzione all'occupazione, a reinvestire e anche nei confronti degli azionisti retail. Nicastro si è detto fiducioso di ottenere questo risultato, anche perché chi fa un investimento di milioni, ha detto, per poi andare a combattere con i clienti e con il territorio, fa un pessimo affare.